Minaccia neutralizzata! Arma scarica! Cecchino! Poavi in attesa di ordini. Andiamo, andiamo! Stiamo perdendo. Approvvigionamento in attesa. Un cecchino a terra! Cecchino a terra, muoversi! Due nemici uccisi. Occisione confermata! Versaglio centrato. Seguirà analisi dei dati. Poavi in attesa di ordini. Poavi alleato in arrivo. Si muove! Approvvigionamento in attesa. Troving! Il colpo fu i naturali in attesa di ordina. I vostra posizione. Ii siamo fatti. Però sto fuori in attesa. come è? Che vuoi eliminare, andiamo! In attesa! Asseglie! O. Grazie a tutti.